benvenuto adriano a garten direi finalmente grazie per avermi ospitato e da tanto che parlo di a te di questo progetto e mi fa molto piacere averti qui in occasione tra l'altro di un tuo nuovo progetto invece che è un epi di tre pezzi ben precisi mirati che è uscito in questi giorni si chiama solitario solidale e ascoltandolo diciamo che intercettato una serie di segni di influenze che da tempo girano tra le corde della tua chitarra che qua probabilmente trovano un compimento cioè da quando ti ho conosciuto con un blues più americano ti sei spostato sei tornato oltreoceano verso la parte africana del blues e quindi questo viaggio quando è iniziato quando è che ha iniziato a ritornare dall'america allora quello che faccio di solito abbastanza casuale ce lo faccio perché un po figlio da figlio di esigenze a un certo punto la chitarra nella modalità in cui ho sempre suonato mi sembrava potesse essere arricchita da sonorità diverse no più contemporanee però ha cercato di fare un di portare un po di contemporaneità non utilizzando la tecnologia ma utilizzando una sorta di di tecniche che usano i musicisti africani quelli anche più primitivi e quindi tutta una serie di trucchetti speciali che sono per me sono avvincenti è una cosa è un processo divertente quello di scoprire queste modalità e quindi le ho le ho tradotte portate sulla sulla mia chitarra sul mio strumento in maniera completamente sgrammaticata non mi sento di essere uno che fa world music che prova a suonare come gli africani lo faccio a modo mio cercando un po di rinfrescare in qualche misura la mia il mio strumento legate a questi tre pezzi che sono nel in questo è più appena uscito ci sono anche tre video molto specifici come hai fatto questa scelta un ritorno diciamo alla musica all'immagine forse che noi che siamo vissuti in un'epoca di mtv sentiamo molto fondamentale nel senso che era il modo di scoprire la musica secondo me grazie per la domanda mi è sembrato subito non so doveroso nei confronti di chi ascolta la mia musica arricchire la mia proposta con 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 dei video che sottolineassero un po quella che è la la mia visione musicale quindi mi sono affidato a tre registi speciali dan daddy paolo agnazumo e donato sansone che sono anche degli amici sono diventati anche degli amici e persone alle quali voglio bene che hanno hanno dato luce e visione al ancora questi tre pezzi ho pensato che l'opera in generale in totale fosse completa anche con i video mi sentivi l'esigenza di unire fortemente e i tre pezzi che hai scelto come come gli hai scelti ok io ho scelto i tre brani che compongono le p solitario solidale poiché poco prima della pandemia che iniziasse mi ero mi ero incontrato insieme a marco fasolo che colui che ha diciamo registrato mixato masterizzato questo queste p nel mio nel mio studio e ho fatto un po di esperimenti insieme a lui per fare questi esperimenti ho utilizzato queste musiche due cover e un brano originale mi sembravano che suonassero bene insieme e che in qualche misura riuscissero a far capire chi chi sono quindi mi è sembrato giusto farli uscire insieme ora ti faccio una domanda specifica su uno dei tre brani che hai scelto perché durante il lockdown ho incontrato per caso guardando un film che si chiama due donne storia di razzismo americano anche se guarda il passato diciamo molto attuale come tema e dentro la colonna sonora c'era proprio questo pezzo suonato al pianoforte da questa pianista etiope ora sbaglierò la pronuncia lo so segue marie che tu hai proprio scelto da inserire in tra questi tre pezzi e a parte la difficoltà che io ho fatto a trovare altri pezzi suoi o trovare informazioni su di lei quindi mi ha fatto veramente mi ha stupito che tu abbia scelto anche se ho trovato delle differenze sonore ovviamente mentre lei è più eterea e femminile nel suonarlo tu ovviamente traducendola con la chitarra risulta giustamente più forse più maschile però l'approccio con questa pianista che comunque attualmente viva ma lontana dalla cultura europea come l'ha incontrata tutto questo è tutto mi fa piacere che che tu insomma conosca questa musicista così particolare che non è non è una cosa insomma comune incontrare persone così curiose niente frutto di frutto di dei miei viaggi diciamo alla ricerca alla ricerca di qualcosa che possa essere diverso senza essere ostentatamente diverso moriamo c'è bro è una pianista che fa una musica aliena come dicono anche alcuni miei amici a cui l'ho fatto ascoltare con semplicità usando le sue mani e il pianoforte utilizza degli intervalli che difficilmente ascoltiamo in radio nella discografia che siamo abituati ad ascoltare oggi e quindi mi sembra mi sembra interessante e anche doveroso omaggiare un artista così direi anche abbastanza sconosciuta mi piace anche l'idea che lei viva questa sua vita musicale come una sorta di eremitaggio no che oggi è la cosa più complicata no essere distanti da tutto invece lei ci riesce e fa cose speciali che per me la musica è questo insomma tutto il resto conta poco bene fa molto piacere tu l'abbia scelta devo dire grazie allora l'ultima domanda e te la volevo fare inerente a tutta l'altra sfera di progetti che arricchiscono la tua vita musicale quindi dagli hate my village ai bud spencer blues explosion ma anche ai progetti dove tu presenzi come chitarra quindi nick chester bombino e questi altri progetti come hanno influenzato la tua musica e come stanno proseguendo sono tutte esperienze che ho avuto durante il viaggio no da quando ho cominciato con il blues explosion mi sono capitate delle opportunità così casualmente e quindi ho semplicemente seguito quello che che la vita mi ha proposto e sono state esperienze da cui ho imparato tanto ho conosciuto persone speciali e quella è una cosa bellissima umanamente mi ha fatto capire tanto e diciamo che proseguono nel senso che una volta che ci si conosce tra musicisti quando per esempio alcuni artisti vengono a suonare in italia vedi bombino magari mi invita a partecipare oppure con nick chester andare a suonare due volte in un anno in australia non mi era mai successo di andare in australia figuriamoci andarci due volte nello stesso anno a suonare è una cosa speciale sono tutte opportunità che spero di continuare a cavalcare e spero anche di dare ad altri artisti più giovani che magari conoscerò il futuro bene grazie mille intanto grazie a te grazie a te